Gesù e Maria state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegge Laudentur Iesus et Maria siamo giunti amici alla 32esima puntata di questo ciclo di catechesi dedicato allo studio e alla contemplazione del mistero di Giuda non farò molti preamboli perché questa sera ci attendo un episodio un po' impegnativo diciamo molto impegnativo quindi in cui la lettura sarà abbastanza da prolungare quindi è meglio non appesantire poi eccessivamente la lunghezza anche di questa catechesi perché questa sera come da premessa dell'ultima puntata vedremo Giuda purtroppo andare ad assecondare una malsana curiosità che è quella ahimè dell'occultismo ricordiamo che nell'ultima puntata Giuda aveva manifestato la volontà di andare ad Endor Endor era secondo i libri di Samuele non ricordo se il primo o il secondo più il primo che il secondo dove c'è la saga di Davide ma non ci mettere la mano sul fuoco comunque è uno dei due è il luogo dove si recorre Saul a consultare la necromante evocando quindi attraverso proprio un vero e proprio atto di necromanzia lo spirito di Samuele si trovava in difficoltà Samuele era morto aveva combinato un sacco di guai non sapeva a che santo votarsi e per cui decise di ricorrere a questo mezzo evidentemente gravemente contrario al primo comandamento fatta questa premessa andiamo alla lettura così l'abbiamo un po' circostanziata e possiamo capire di cosa stiamo parlando parte 32 vorrebbe cogliere il frutto proibito dell'occultismo questo è il titolo del capitolo che ci accingiamo a leggere il tabor è ora alle spalle dei camminatori già superato per una pianura chiusa fra questo mondo ed un altro che in faccia il gruppo cammina parlando dell'ascensione fatta da tutti per quanto sembra che in principio i più anziani se ne volessero risparmiare ma ora sono contenti di essere andati là in cima il cammino è facile perché si è su una via maestra abbastanza comoda l'ora è fresca perché ho l'impressione che abbiano pernottato sulle pendici del tabor quello è endor dice gesù accennando un povero paese aggrappato alle prime elevazioni di quest'altro gruppo mondano ci vuoi proprio andare se mi fa se mi vuoi fare contento risponde l'iscariota e andiamo allora ma ci sarà molto da camminare chiede bartolomeo che per l'età non deve essere molto voglioso di escursioni panoramiche oh no ma se volete rimanere dice gesù sì sì rimanete rimanete pure mi basta andare con il maestro si affretta a dire giuda di carriot ecco io vorrei sapere cosa c'è di bello da vedere prima di decidere in cima al tabor abbiamo visto il mare e dopo il discorso del ragazzo devo confessare che l'ho visto per bene per la prima volta e l'ho visto come vedi tu con il cuore qui vorrei sapere se c'è da imparare qualche cosa e allora vengo anche se devo fare fatica li senti? dice gesù tu non hai ancora detto le tue intenzioni per gentilezza verso i compagni dille ora in vita gesù non è a Endor che Saul vuole andare per consultare la pitonessa? sì ebbene ebbene maestro mi piacerebbe andare in quel luogo e sentire da te parlare di Saul oh allora ci vengo anch'io esclama Pietro entusiasta e allora andiamo fanno a passo svelto l'ultimo tratto di via maestra e poi la lasciano per una via secondaria che porta dritta a Endor è un povero luogo come ha detto Gesù le case sono abbarbicate alle pendici che dopo oltre il paese si fanno più aspre povera gente le abita per lo più i cittadini devono esercitare la pastorizia su per i pascoli del monte e fra i boschi di querce secolari pochi campicelli di orzo o simile piada meritagli provizi e delle piante di melo e di fico poche viti intorno alle case a fare un poco di decorazione sulle muraglie oscure come questo fosse un posto piuttosto umile umido scusate ora domanderemo dov'era il luogo della maga dice Gesù e ferma una donna che torna con le afore dalla fontana questa lo guarda curiosamente poi risponde sgarbata non so ben altre cose più importanti io di queste fole e lo pianta in asso Gesù si rivolge ad un vecchietto che intaglia un pezzo di legna la maga, Saul e chi se ne occupa più però aspetta c'è uno che ha studiato e forse saprà vieni e il vecchietto arranca su per una vietta sassosa fino ad una casa molto misera e molto sciatta sta qui ora entro e lo chiama Pietro accennando del pollame che razzola in un cortiletto sudicio dice quest'uomo non è israelita ma non dice altro perché torna il vecchietto seguito da un uomo guercio sporco e disordinato come tutto quanto è della sua casa il vecchietto dice vedi quest'uomo dice che è là oltre quella casa diroccata un sentiero poi un ruscello poi un bosco e delle caverne la più alta quella che mostra ancora delle mura diroccate sul suo fianco è quella che cerchi non è detto così no hai tutto confuso andrò io con questi stranieri l'uomo ha una voce aspre e gutturale il che aumenta il senso di disagio si incammina Pietro, Filippo e Tommaso fanno segni su segni a Gesù perché non vada ma Gesù non dà retta cammina con Giuda dietro all'uomo e gli altri lo seguono di malavoglie sei israelita? chiede l'uomo sì io pure o quasi benché non sembri ma sono stato molto tempo in altri paesi e ho preso abitudini che questi stolti deplorano sono meglio degli altri ma mi dicono demonio perché leggo molto allevo pollame che vendo ai romani e so accurare con le erbe da giovane per una donna mi presi con un romano allora stavo a Cinzio e lo pugnalai lui morì e io vi persi l'occhio e le sostanze e fui condannato all'ergastolo per molti anni per sempre ma sapevo curare e guarì la figlia di un guardiano ciò mi valse la sua amicizia e un poco di libertà l'ho usata per fuggire ho fatto male perché l'uomo certo scontò la mia fuga con la vita ma la libertà sembra bella quando si è prigionieri e non è bella poi presumibilmente chiede Gesù no è meglio il carcere dove si è soli al contatto con gli uomini che non concedono di essere soli e che ci stanno intorno per odiarci hai studiato i filosofi ero maestro a Cinzium ero proselite e ora e ora sono nulla vivo nella realtà e odio come fui e come sono odiato chi ti odia tutti e Dio per il primo era mia moglie e Dio ha permesso mi tradisse e mi rovinasse ero libero e rispettato e Dio ha permesso di venissero nel gastolano l'abbandono di Dio l'ingiustizia degli uomini ho annullato quello e questi qui non c'è più niente e si batte sulla fronte e sul petto cioè qui nella testa c'è il pensiero il sapere qui è che non c'è nulla sputa con sprezzo ti sbagli lì hai ancora due cose quali? il ricordo e l'odio levale sii veramente vuoto e Dio ti darò una cosa nuova da mettere lì che cosa? l'amore adesso lui ride ci sono il 3A con l'H finale intervallati dal punto esclamativo quindi non mi metto a a simulare la risata perché mi verrebbe male mi fai ridere sono 35 anni che non ridevo più uomo da quando ebbi la prova che la femmina mi tradiva con il mercante di vini romano l'amore l'amore a me come se io gettassi gioielli ai miei polli morirebbero di indigestione se non riuscissero a passarli nello sterco lo stesso a me mi farebbe peso il tuo amore se non lo potessi digerire no uomo non dire così Gesù gli posa la mano sulla spalla veramente e palesemente afflitto l'uomo lo guarda col suo unico occhio e quel che vede in cui il viso dolce è bellissimo lo fa muturire cambiare espressione dal sarcasmo passa ad una serietà profonda da questa ad una vera mestizia chi nel capo e poi chiede con voce mutata chi sei? Gesù di Nazareth il Messia tu io non sapevi di me tu che leggi sapevo ma non che eri vivo e non o soprattutto questo non sapevo non sapevo che eri buono con tutti così anche con gli assassini perdona quanto ti ho detto di Dio dell'amore ora capisco perché tu vuoi darmi l'amore perché senza l'amore il mondo è un inferno e tu Messia mi vuoi fare un paradiso un paradiso in ogni cuore dammi il ricordo e l'odio che ti tengono malato e lascia che io ti metta in cuore l'amore o se ti avessi conosciuto prima allora ma quando io uccidevo tu non eri certo nato ma dopo dopo quando libero come libero il serpente nelle foresti io vissi per avvelenare con il mio odio ma hai fatto anche del bene interloquisce Gesù non hai detto che curavi con le erbe sì per essere tollerato ma quante volte ho lottato con la voglia di avvelenare con i filtri vedi mi sono rifugiato qui perché è un paese dove si ignora il mondo e che il mondo ignora un paese maledetto altrove ero odiato e odiavo e avevo paura di essere riconosciuto ma cattivo sono hai un rimpianto per avere causato del male al guardiano della prigione vedi che ancora sei munito di bontà non sei malvagio sei solo con una grande ferita aperta e nessuno te la medica la tua bontà fugge da essa come il sangue dalle ferite ma se ci fosse chi ti cura e chiude la ferita tua povero fratello la tua bontà non più sfuggente man mano che si forma crescerebbe in te l'uomo piange a capochino senza che nulla tradisca quel pianto solo Gesù che gli cammina al fianco lo vede si lo vede ma non dice più altro arrivano ad una speronca che è fatta di macerie collate e di caverne nel monte l'uomo cerca di fare ferma la voce e dice ecco è qui entra pure grazie amico sii buono facciamo la prima pausa che è un po' che stiamo leggendo perché c'è questo episodio molto edificante dell'incontro occasionato da questo viaggio ad Endor è sicuramente un incontro che Gesù prevedeva questo è sicuramente una delle diverse buone ragioni che Gesù aveva per assecondare il desiderio malzano come vedremo in digiune quindi l'incontro con questo uomo un uomo che abbiamo sentito consumato da da una vita veramente triste un assassino uno che ha ucciso e consumato appunto dall'odio e da tante altre cose è importantissimo notare la delicatezza con cui Gesù lo 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 intercetta diciamo così lo lascia parlare quindi gli lascia anche tirar fuori tutto Gesù non dice come mai faceva Gesù non dice mai subito prima del tempo chi era interviene al momento opportuno esortando farò una cosa molto importante dammi il ricordo e l'odio perché possa metterci qualche altra cosa per motivi diciamo così di lavoro proprio oggi stavo lavoro tra virgolette ovviamente lavoro sacerdotale stavo riflettendo su alcune tematiche collegate alla seconda domenica d'avvento sapete che ogni anno la chiesa è la seconda domenica d'avvento propone la figura di San Giovanni Battista perché preparate la via del Signore raddrizzate i suoi sentieri e comincia razza di vipere sapete che Dio vuoi far nascere figli di Abramo non devo cominciare a dire abbiamo Abramo per padre perché Dio vuoi far nascere figli di Abramo anche da queste pietre perché ogni anno la seconda domenica d'avvento sempre dopo la prima che era domenica della vigilanza c'è la seconda domenica d'avvento che era domenica del Battista perché perché come però tutti sappiamo Gesù non è soltanto venuto sulla terra duemila anni fa la venuta storica e aspettiamo la sua venuta nella gloria come diciamo nel credo per giudicare i miei morti cioè la parusia ma c'è quella che si chiama nella tradizione teologica a fine dei tempi patristici e poi ancora più medievali la venuta intermedia o continua di Gesù sono tre le venute di Gesù quella che è la sua venuta nei nostri cuori è quella che quel giorno venne quest'uomo adesso Gesù non viene più attraverso la sua natura umana perché non c'è più sulla terra adesso sta seguito alla destra del Padre ma continua a venire viene in maniera misteriosa ma vera solo che l'incontro è reso impossibile se nel nostro cuore ci sono delle condizioni postative nel caso di quest'uomo il ricordo è l'olio se tu non rimuovi queste cose e questo dobbiamo farlo noi Gesù ci intercetta in vano adesso momentaneamente non sappiamo come va a finire quest'uomo non ha fatto quello che Gesù gli dice Gesù non dice più niente quindi ha detto dopodiché aspetta e dopodiché vedremo se quest'uomo si converte o non si converte in ogni caso Gesù gli ha dato l'opportunità diciamo che in questo caso Gesù ha fatto da solo quello che farebbe Giovanni Battista io vengo nella tua vita tu però devi rimuovere queste cose perché se non le rimuovi io non ci posso mettere l'amore quindi questo è un qualcosa di molto importante perché ci fa capire la focale fondamentale importanza della conversione cioè il precursore precede San Giovanni Battista precede il Signore dal battesimo di acqua che è un simbolo il battesimo di acqua ma qual è il simbolo dell'acqua chi si sottopone all'acqua vuol dire che si riconosce bisogno di purificazione sono sporco quindi mi devo pulire è chiaro che non si tratta di sporcizia del corpo ma si tratta di un gesto simbolico che designa la volontà di purificarsi l'anima quindi mi riconosco bisognoso mi riconosco quantomeno questo dobbiamo fare mi riconosco peccatore mi riconosco bisognoso di aiuto e lo invoco se c'è quello il resto ci pensa la grazia di Dio ma questo ci deve essere perché se questo non c'è come dice San Paolo Cristo per noi morto in vano non ci fa niente ok dobbiamo tenerlo presente ora proseguiamo l'uomo non dice nulla e resta dove è mentre Gesù con i suoi superando pietroni che certo erano pezzi di muraglie ben robuste disturbando ramarri e altre brutte bestie entrano in una vasta grotta affumicata sulle cui pareti graffiti nel masso sono ancora segni dello zodiaco e simili storie in un angolo affumicato vi è una nicchia e sotto un buco come fosse un tombino per lo scolo di liquidi i pipistrelli decorano il soffitto dei loro grappoli che fanno riprezzo e un gufo disturbato dalla luce di un ramo che Giacomo ha acceso per vedere se calpestano scorpioni o aspidi si lamenta sbattendo le ali ovattate stringendo gli occhiacci feriti dalla luce è proprio appollagliato nella nicchia e un fetore di topi morti di tonnole di uccelli in potrefazione fra i suoi piedi si mescola all'odore dello sterco e del suolo umido un bel posto in verità dice Pietro era meglio il tuo tambore il mare ragazzo e poi volgendosi a Gesù maestro accontenta presto giuda perché qui non accetto la sala regale di Antipa anche Pietro ha fatto un po' di ironia adatta ai suoi tempi come l'ho fatta io mi consola un po' subito che vuoi sapere di preciso chiede a giuda di ceriot ecco vorrei sapere se e perché Saula ha peccato venendo qui vorrei sapere se è possibile che una donna possa evocare i morti vorrei sapere se o insomma parla tu io ti farò domande a fare lungo andiamo almeno di fuori al sole sui massimi ci salveremo dall'umido e dal fetore prega Pietro e Gesù ha consente si siedono come possono sulle muraglie crollate il peccato il peccato di Saul non è stato che uno dei peccati dello stesso fu preceduto e seguito da molti altri tutti gravi ingratitudine di aver addolorato Samuele suo benefattore mancando alla carità colpevole di gelosia e di attentati verso Davide altro suo benefattore e infine del delitto commesso qui contro chi? non vi ha ucciso nessuno la sua anima ha ucciso ha finito di uccidere qui dentro perché abbassi il capo? penso maestro pensi lo vedo che pensi? perché si è voluto venire? non per pura curiosità di studioso confessalo ma sempre si sente parlare di maghi di negromanzie di spiriti evocati volevo vedere se scoprivo qualcosa mi piacerebbe sapere come avviene penso che noi destinati a stupire per attirare dovremmo essere un po' con i gromanti tu sei tu e fai con il tuo potere ma noi dobbiamo chiederlo un potere un aiuto per fare opere strane che si impongano oh ma sei folle? ma che dici? urlano in molti tacete lasciatelo parlare non è follia la sua sì insomma mi pareva che venendo qui qualche poco della magia di un tempo potesse entrare in me e farmi più grande per l'interesse tuo credilo so che sei sincero in questo tuo desiderio attuale ma ti rispondo con parole eterne perché sono nel libro con la L maiuscola e il libro sarà finché sarà l'uomo creduto o schernito impugnato in nome della verità o deriso sarà sempre sarà è detto ed Eva visto che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi e bello a vedersi lo colse e ne mangiò e ne diede al marito e allora i loro occhi si apersero e si accorsero di essere nudi e si fecero delle cinture e Dio disse come vi siete accorti di essere nudi solo per avere mangiato il frutto proibito e ricacciato al paradiso di delizia e nel libro di Saul è detto disse Samuele apparendo perché mi hai disturbato col farmi evocare perché interrogarmi dopo che il Signore si è ritirato da te il Signore ti tratterà come ti ho detto perché tu non hai ubbidito alla voce del Signore figlio non tendere la mano al frutto proibito anche solo accostarlo è imprudenza non avere curiosità di conoscere l'ultraterreno per tema che non ti se ne apprenda il satanico veleno fuggi l'occulto è ciò che non si spiega una sola cosa va accolta con santa fede Dio ma ciò che Dio non è e che non è spiegabile con le forze della ragione e credibile con le forze dell'uomo fuggilo fuggilo perché non ti si aprono le fonti della malizia e tu non comprenda di essere nudo nudo repellente nella umanità mista al satanismo perché vuoi stupire con prodigi oscuri stupisci con la tua santità e sia luminosa come cosa che viene da Dio non avere desiderio di lacerare i veli che separano i viventi dai trapassati non disturbare i defunti ascoltali se saggi finché sono sulla terra vennerali con l'ubbidirli anche dopo la morte ma non turbare la loro seconda vita chi non ubbidisce alla voce del Signore perde il Signore e il Signore ha proibito l'occultismo la negromanzia il satanismo in tutte le sue forme che vuoi sapere più di quanto la parola non ti dica già che vuoi operare più di quanto la tua bontà e il mio potere ti concedono di operare non appetire al peccato ma alla santità figlio non ti mortificare mi piace che tu ti svelini nella tua umanità quello che piace a te piace a molti a troppi solo il fine che tu metti a questo tuo desiderio essere potente per attirare a me leva a quest'umanità molto peso e mi mette ali ma sono di uccello notturno no mio Giuda mettivi ali solari a ridangere al tuo spirito con il solo vento di esse attirerai i cuori e li trasporterai nella tua scia a Dio possiamo andare? sì maestro ho sbagliato no sei stato un indagatore il mondo ne sarà sempre pieno vieni vieni usciamo da questo luogo di puzzo incontro al sole andiamo fra pochi giorni è Pasqua e dopo andremo da tua madre io ti evoco quella la tua casa onesta la tua madre santa oh che pace come sempre il ricordo della madre la lode del maestro alla madre la serena Giuda escono dalle rovine e cominciano a scendere per il sentiero fatto prima l'uomo guercio è ancora lì ovviamente qui siamo nel cuore del brano e quindi qui bisogna fare una sosta un pochino più lunga Giuda è stato sincero però capite che la sua mente è disturbata voglio imparare a fare il mago perché dobbiamo fare cose sensazionali per attrarre a te quindi Gesù è molto buono da un lato è molto buono dall'altro questo ci fa comprendere come un fine buono non fa diventare cattivo una azione intrinsecamente cattiva ovviamente ma ne attenua di molto la gravità ok qui Gesù concede perché lo dice e Gesù non mente so che sei sincero in questo tuo desiderio attuale quindi Giuda non ha mentito cioè veramente nella sua testa così che adesso è stato in un periodo up perché questo è proprio un dipolare quanto meno metaforico perché lo vedremo che che va in up and down proprio ecco pazzeschi però acquistava in up e quindi gli aveva preso così Gesù fa un lungo discorso molto proprio da da Dio vabbè lui è Dio ma da da maestro buono sollecito dove spiega bene alcune cose che valgono anche per noi e dice se è un indagatore attenzione il mondo ne sarà sempre pieno attenzione che attenzione perché qui il problema è una curiosità mal sana la curiosità che sta dietro tu dici la curiosità sì la curiosità Giuda è stato curioso voglio andare a vedere sto posto chissà che non mi venga un pochino dello spirito della maga dentro il cuore ma la curiosità era di andarla a vedere San Bernardo annoverava la curiosità nel suo libretto aureo i 12 gradi dell'orgoglio e dell'umiltà non mi ricordo che grado di orgoglio era ma era uno dei gradi dell'orgoglio ogni volta che c'è orgoglio vuol dire che noi ci stiamo facendo tentiamo di farci qualcosa di più di Dio di quello che noi siamo perché in effetti Gesù qui gli ribatte una serie di cose che cosa vuoi perché è proibito l'occultismo perché è proibita la negromanzia perché è proibito il satanismo perché attraverso queste cose noi entriamo in un mondo ignoto 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 a noi ma non ignoto agli angeli ribelli e entrato lì dentro si è morto perché alcuni poteri tu li acquisisci realmente e funzionano pure ma il prezzo che ci hanno è perdificante perché il diavolo non concede come Dio poteri a gratis cioè se Dio dà a un santo la facoltà di fare miracoli gliela data e basta gliela dà per la sua santità gliela toglie se se ne rende indegno ma non c'è un prezzo da pagare il diavolo a gratis non dà niente a nessuno a nessuno c'è il conto salato da pagare a noi quando stiamo dinanzi a qualcosa che non si spiega perché tutti quanti hanno il solletico d'accordo le dinamiche per esempio connesse alla falsa mistica alle false apparizioni eccetera sono tutte infettate da questa roba qui nessuno andrebbe dietro a una falsa apparizione o a un falso mistico o mistica se non ci fossero dei fenomeni apparentemente soprannaturali in realtà in questo caso si chiamano preternaturali per la loro origine non buona che li accreditano avete idea di quanti falsi stigmatizzati che ci sono in giro nel mondo adesso stigmate cioè quello che è il soprannaturale il demonio lo può simulare solo che quello buono si chiama soprannaturale quello tarocco si chiama preternaturale così come un fatto soprannaturale che viene da Dio si chiama miracolo un fatto apparentemente soprannaturale che viene dal demonio si chiama il prodigio basta guardare nel libro dell'esodo i maghi che rifacevano quello che Mosè faceva per intervento divino cambiare i bastoni in serpenti e cambiare l'acqua del nino in sangue eccetera eccetera allora dinanzi a queste cose bisogna fuggire a gambe levate perché si entra in labirinti oscuri le cui conseguenze nefaste nessuno di noi è in grado di ponderare e il diavolo vuole che ci entriamo Gesù fa riferimento immediatamente al peccato originale è sempre la stessa cosa è sempre la stessa canzone vuoi stupire diventa santo vuoi conoscere forma la tua fede c'è c'è la parola con la P maiuscola quindi la rivelazione che altro vuoi sapere tutto quello che è necessario alla tua salvezza tutto Dio te lo fa conoscere non sei in grado di leggere la Bibbia vabbè non fa niente oggi leggere il catechismo approfondisci la fede su quello dedicaci il tempo non occorre altro attenzione guardate che c'è un sacco di gente quanta gente gli muore un figlio e comincia ad andare a cercare in giro chi fa la scrittura io l'ho conosciuto la scrittura automatica o addirittura il registratore ma lo sapete guardate che non è uno scherzo quando si parte di scrittura automatica le cose che vengono scritte uno la legge e dice ma questo sicuramente l'ha scritto mio figlio perché era una cosa che sapeva soltanto lui era il suo modo di esprimersi se si parla col registratore si sente il timbro della voce della persona defunta e uno dice sicuramente è lui sicuramente è lui perché tu non conosci il demonio il demonio sapete che può rifarla tale e quale la nostra voce sapete che ci sono casi attestati dagli esperti in merito di telefonate partite ed arrivate con la stessa identica voce del mittente che non ha fatto quella telefonata sono attestate in letteratura quindi quando si entra in mezzo a questi mondi strani non siamo più in grado non si va a stuzzicare cioè capite un'intelligenza immensamente superiore alla nostra ma malvagia perché non c'è niente di quello che accade in questo mondo che sia realmente buono anche se è ovvio che il diavolo per farti centrare devi darti la pilloletta come quando da Medeva se no nessuno ci va stiamo alla larga da queste robe come dalla peste bubonica va bene e adesso nell'ultima parte andiamo a vedere che fine fa il guercio chiamiamolo così qui ancora chiede Gesù mostrando di non vedere il viso rosso per il molto pianto versato qui se mi permetti di seguo ho da dirti una cosa vieni dunque con me che vuoi dirmi Gesù io trovo che per avere forza di parlare e di fare la magia santa di cambiare me stesso di evocare la mia anima morta come la maga evocò per Saul Samuele devo dire il tuo nome dolce come il tuo sguardo santo come la tua voce tu mi hai dato una nuova vita ed essa informe incapace come quella di un nato mal generato si dibatte ancora fra le strette di una scorza malvagia aiutami ad uscire dalla mia morte si amico io io ho conosciuto di avere ancora un poco di umanità nel mio cuore non tutto belva sono e posso ancora amare ed essere amato perdonare ed essere perdonato il tuo amore il tuo amore che perdono me lo insegna non è vero che è così sì amico allora portami con te io ero felice oh mamma me l'ho dimenticato adesso mi si è mi si è accesa la luce ironia ma tu dammi un nuovo nome che il passato sia realmente morto ti seguirò come un cane randaggio che finalmente trovo un padrone sarò il tuo schiavo se vuoi ma non lasciarmi solo sì amico che nome mi dai un nome a me caro Giovanni poiché tu sei la grazia che fa il Signore Giovanni sia in ebraico che in aramaico significa Yahweh fa grazia testualmente letteralmente mi prendi con te per ora sì poi mi seguirai fra i discepoli ma la tua casa non ho più casa lascerò i poveri quanto ho dammi solo amore e un pane vieni e Gesù si volge chiamando gli apostoli e dice amici e specie tu Giuda abbiate il mio grazie per te per voi un'anima viene a Dio ecco il nuovo discepolo finché viene con noi finché non potremo affidare i fratelli discepoli siate felici di aver trovato un cuore e benedite con me il Dio molto felici veramente non sembrano i dodici ma fanno buon viso per ubbidienza e cortesia se per me ti vado avanti mi troverai sulla soglia di casa va pure l'uomo parte di corsa pare un altro ora confesso mea culpa che avevo dimenticato certamente non il personaggio ma che il famosissimo Giovanni di Endor che è una figura veramente stupenda degli scritti di Maria Valtorta è quest'uomo io rileggendo l'episodio non mi è venuto subito in mente adesso appena ha cominciato poi quando ho visto quando ho visto con l'occhio il nome nuovo mi si è subito accesare una lampadina Giovanni di Endor la storia è veramente di un grandissimo peccatore in cui Gesù gli ha tirato fuori la parte migliore di sé che non è mai del tutto sopita e su quello ha lavorato per farlo nuovo e guardate che questo diventerà un nuovo di quelli proprio spettacolari le storie bellissime dei peccatori doc che veramente si convertono certo ed ora che siamo soli vi ordino dice Gesù agli apostoli questo lo ordino di essere buoni con lui e di tacere il suo passato a chi che sia chi parlasse o chi mancasse verso la carità al fratello redento verrebbe all'istante respinto da me avete inteso? e vedete quanto è buono il Signore venuti qui per fine umano ci concede di ripartirne avendo ottenuto un fatto sopranaturale o io giubilo per la gioia che ora è nel cielo per il nuovo convertito notare quanto Gesù è netto in questo caso il primo che sgarra io lo caccio sta dicendo con me ha chiuso giungono davanti alla casa sulla soglia con una veste scura e pulito un mantello uguale un paio di sandali nuovi e una capace sacca sulle spalle e l'uomo chiude l'uscio e poi strano in un uomo che si potrebbe pensare insensibile prende una galilella bianca forse la prediletta che si accoccola domestica sulle sue mani e la bacia e piange e poi la posa andiamo e perdona ma essi i miei polli mi hanno amato parlavo con loro e mi capivano ti capisco anche io dice Gesù e ti amo tanto ti darò tutto l'amore che in 35 anni il mondo ti ha negato oh lo so lo sento per questo vengo ma compatisci l'uomo che che ha un animale che che gli è stato più fedele dell'uomo sì sì non pensare più al passato avrai tanto da fare e con la tua esperienza farei tanto bene Simone vieni qui e tu Matteo vedi questo fu più che prigioniero e l'ebroso fu questo fu peccatore ed io li ho cari perché sanno capire i poveri cuori non è vero per bontà tua signore ma certo credi amico che tutto si annulla nel servirlo resta solo la pace dice lo zelote sì la pace e una giovinezza nuova succede dove era la vecchiezza di vizio e di odio io ero pubblicano ma ora sono l'apostolo abbiamo davanti il mondo e noi siamo istruiti circa esso non siamo i fanciulli svagati che passano presso il frutto nocivo e la pianta che piega e non vedono la realtà noi sappiamo possiamo evitare il male e insegnare ad altri ad evitarlo e sappiamo raddrizzare chi piega perché sappiamo come è di sollievo essere sorretti e sappiamo chi sorregge lui dice Matteo così capiamo che Matteo e lo zelote erano tra virgolette i più ex peccatori del gruppo apostolico è vero è vero mi aiuterete grazie è come se io passassi da un luogo scuro e fetido all'aperto di un prato fiorito ho provato qualcosa di simile quando sono uscito libero finalmente libero dopo vent'anni di ergastolo e di lavoro brutale nelle miniere dell'anatolia e mi sono trovato ero fuggito in una sera burrascosa in cima ad un monte aspro ma aperto ma pieno di sole per l'orola è coperto di boschi odorosi la libertà ma ora è di più tutto in mesi di lata non avevo più catene da 15 anni ma l'odio la paura la solitudine mi erano sempre catene ora sono cadute eccoci alla casa del vecchio che vi ha portati a me uomo uomo il vecchietto accorre e resta di stucco vedendo che il guercio è pulito in veste da viaggio e con un viso sorridente tieni questa è la chiave della mia casa io vado via per sempre ti sono grato perché tu sei il mio benefattore mi hai reso la famiglia fate il mio tutto quello che vuoi e cura i miei polli non li maltrattare ogni sabato viene un romano e comperà le uova ti daranno dell'utile trattale bene le mie gallinelle e Dio te ne le mueri il vecchietto è trasecolato prende la chiave e resta a bocca aperta Gesù dice sì fa come egli dice e io pure te ne sarò grato in nome di Gesù ti benedico il Nazareno sei tu misericordio ho parlato con il Signore donne donne uomini il Messia è fra noi strilla come un'aquila e corrono persone da ogni parte benedici benedici gritano e altri resta e altri dove vai almeno di dove vai annaim restare non posso chi seguiamo lo vuoi venite e a chi resta pace e benedizione si avviano verso la via maestra la prendono l'uomo che cammina vicino a Gesù e che fatica sotto la sua sacca attira la curiosità di Pietro ma che hai lì dentro di tanto pesante chiede le bestie e dei libri i miei amici dopo e con i polli non ho potuto separarmi e pesano eh la scienza pesa già e a chi piace eh mi hanno impedito di impazzire eh ci devi volere bene ma che libri sono filosofia storia poesia greca romana belli belli certo belli ma pensi poterti riportare dietro forse riuscirò anche a separarmene ma tutto insieme non si può fare non è vero messia chiamami maestro sì non si può ma ti farò avere un luogo dove potrai dare un ricovero ai tuoi amici i libri ti potranno servire per discutere con i pagani di Dio oh come hai netto il pensiero da ogni restrizione Gesù sorride e Pietro esclama eh sfido io è la sapienza lui è la bontà interloquisce Giovanni di Endor credilo e tu sei colto io dice Pietro oh coltissimo distingo una gona da una carpa la mia cultura resta lì sono pescatori amici e Pietro ride amico sono pescatore amico e Pietro ride umile e schietto sei un onesto è una scienza che si impara da sé ed è molto difficile ad aversi mi piaci anche tu mi piaci dice Pietro perché sei schietto anche nell'accusarti io perdono tutto aiuto tutti ma sono un nemico spietato dei falsi mi fanno un librezzo hai ragione il falso è un delinquente è un delinquente lo hai detto di non ti fidi a darmi un po' con la tua sacca tanto sta certo con i libri non scappo mi pare che fai fatica venti anni di miniera spezzano ma perché vuoi faticare tu? perché il maestro ci ha insegnato ad amarci come fratelli da qui e prendi i miei stracci è leggera la mia non ci sono storie né poesie la mia storia la mia poesia e quell'altra cosa che hai detto è lui il mio Gesù il nostro Gesù ecco questo bellissimo dialogo da Pietro Giovanni Diendor chiude questo episodio e chiudiamo anche noi soltanto con una piccola sottolineatura il falso è un delinquente è una frase abbastanza abbastanza significativa io amici cari confessione pubblica ho dovuto confessare confesso che faccio difficoltà anche a concepire la mentalmente la falsità però nel corso della vita ho dovuto rendermi dinanzi ad alcune evidenze che le persone false purtroppo esistono è una cosa molto molto brutta però a quanto pare è Dio ce ne guardi e ce ne scampi perché veramente non c'è niente di più brutto per certi aspetti in cui ci possa accadere il Salmo 50 dice una cosa molto importante quello che ha salvato anche Giovanni Diendor come abbiamo visto tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo insegni la sapienza e posso al Signore sempre guidarci per queste vie e ci preservi da ogni ipocrisia e falsità ci vediamo la prossima volta amici laudentur Gesù Gesù et Maria